Ciao ragazzi, bentrovati. Allora, da oggi in poi vi farò vedere tutta la mia collezione di film in DVD e Blu-ray. Perciò i film saranno veramente, cioè i video saranno veramente tanti perché i film sono veramente tanti. Questo è il primo mobile con tutta la mia collezione. Vedete che il primo ripiano è vuoto perché l'ho già svuotato perché adesso lo vivisezioneremo man mano e vi farò vedere tutti i film. Perciò ragazzi, voi, chi mi segue, vi prego di continuare a seguirmi. Chi non si è iscritto, vi posso dire di iscrivervi perché i video saranno tanti, i film sono tanti e così ci possiamo divertire assieme. E perciò adesso ragazzi aspettatevi qua e iniziamo subito. Eccomi qui ragazzi. Allora, stavo dicendo. Il mobile che avete visto è pieno di film, DVD, Blu-ray. Io odio mettere in doppia fila questi oggetti ma purtroppo, dato lo spazio, io li ho messi così. Adesso vi farò vedere che cosa ho nei vari ripiani e iniziamo perché la raccolta e i film sono talmente tanti perciò i video saranno tanti. Dopo, più avanti, farò vedere anche questo mobile qua dietro con tutte le action relative a Batman che è dietro di me, lo potete vedere, vedete Batman e tutto, lo analizzeremo. Ma adesso parliamo di film. Allora ragazzi, iniziamo... Scusate il gioco di parole, iniziamo dall'inizio. Allora, una volta c'erano le VHS, io mi ricordo ne avevo talmente tante e quando è subentrato il DVD, riempivo le sacche, quelle della palestra per intenderci, le portavo al Blockbuster, tutti i miei film VHS, perché a quel tempo i Blockbuster si potevano portare i film e loro te li valutavano in soldi oppure li potevi scalare a noleggi o acquisti da loro e io ho fatto così per comprarmi i DVD. Adesso io ho tanti DVD perché le edizioni più belle di tutti i film tengo sia il DVD che il Blu-ray. Di altre edizioni sostituisco il DVD, viene sostituito dal Blu-ray e in altre invece perché il film non esiste in Blu-ray e sei costretto a tenere il DVD. Ma il DVD ha tante belle edizioni e iniziamo subito con la mia collezione. Naturalmente iniziamo dai classici DVD snapper. Ve li ricordate ragazzi? Eccoli qua. Questo è un DVD snapper e partiamo da un grandissimo film, L'Esorcista. Un attimo per dire alla confezione. Questo è il classico DVD snapper che si apriva tutto incartonato con l'apertura in questa plastica. Si apriva all'interno tutte le scene, perciò fantastica l'edizione, e dietro la vera trama con tutto il menu praticamente che trovate nel disco. Perciò era una delle edizioni stupende. A me queste edizioni snapper piacciono tuttora. Un casino ragazzi. E bene, allora andiamo con i film. Questo è il primo film, L'Esorcista verso l'integrale. Quanta gente non l'ha finito? Quanta gente ha avuto paura di questo film? Mi ricordo la prima volta che lo vidi? Mamma mia ragazzi. Rincolato la poltrona e avevi paura di andare a dormire. Gran film ragazzi. Perciò primo film edizione snapper. Proseguiamo, preso da un romanzo di Stephen King, il primo Hit, Il Pagliaccio. Questa edizione, perché molti all'epoca si usava, il disco presentava il lato A e il lato B. Cioè praticamente c'era la prima parte sul lato A, si girava il disco e c'era il lato B. Perciò questi, vedete come sono ancora conservati in maniera più che greggia, direi. E io sono affezionato tantissimo a questo. A queste edizioni. Andiamo avanti. Qui abbiamo un grandissimo Kevin Costner che interpreta Robin Hood. Allora, di Robin Hood è uscito anche il Blu-ray. Il Blu-ray però non l'ho comprato, a differenza di Hit, che ho preso anche il Blu-ray. Non l'ho comprato perché? Perché il doppiaggio del Blu-ray è stato sostituito e il doppiaggio è veramente pessimo. Perciò se volete l'originale con le voci originali dell'epoca dovete prendere esclusivamente il DVD. Bellissima edizione. Poi, altro bellissimo thriller, analisi finale. Richard Gere e Kim Basinger, che a quei tempi andava parecchio di moda, Kim Basinger. La ricordiamo anche in nove settimane e mezzo. E chi se la scorda? Proseguiamo. Ho un bellissimo film, Kevin Klain e Sigourney Weaver. Sto parlando di Dave, presidente per un giorno. Una bellissima commedia, praticamente, questa che chi non l'avesse vista gliela consiglio. Praticamente il presidente americano ha un malore, mentre è, diciamo, in una notte di passione extra coniugale. E cosa, sai, per non fare scandalo, cosa succede? Succede che lui, Kevin Klain, è identico, che è una persona normalissima, è identico al presidente. E allora, loro cosa fanno? Lo ingaggiano per sostituire il presidente. Ma la First Lady, in questo caso interpretata da Sigourney Weaver, se ne accorgerà, la gente se ne accorgerà. Bellissima commedia, ve la consiglio. Ecco, è volato il disco. Bellissimo, perché non era fissato. Allora, recuperiamo, scusate se ho scoperto la rinquadratura. Ecco qua. Interno. E proseguiamo. Proseguiamo, beh, ragazzi, questo è un misto alla Roger Rabbit, fra cartone e film. E chi non l'ha amato, o lo ama tuttora, Space Jam. Ragazzi, bellissimo. Con Michael Jordan, protagonista, e naturalmente protagonista Bugs Bunny, e tutti i personaggi degli Unitoons. Anche qua, grandissimo thriller. In questa edizione ho anche l'edizione Blu-ray, ma un film talmente bello che, ecco, questo film per dire lo tengo in tutte le edizioni. Sto parlando di Los Angeles Confidential con, guardate un po', Kim Basiger, ancora lei. K.V. Spacey, giovanissimo, Guy Pearce, Russell Crowe, Danny DeVito, un grandissimo thriller, ragazzi. E qua, come per un'altra edizione che vi farò vedere, praticamente c'erano delle edizioni che, oltre a aprirsi e trovavate le famose scene che avevo detto prima, aveva una doppia apertura, in questo caso che riprende tutti i personaggi. Perciò era molto bella questa edizione, lo sottolineo ancora, ragazzi. Penso che qualcuno di voi le abbia ancora. Andiamo avanti. Altro bel dramma-trailer, L'Avvocato del Diavolo, con Keanu Reeves e Al Pacino, che interpreta niente di meno che Il Diavolo. E proseguiamo, ragazzi, anche questo grand film, Il negoziatore, Kevin Spacey e Samuel E. Jackson. Quanti ricordi, man mano che passo queste edizioni, ragazzi, non avete idea. Blu Profondo! A me questo film, prendete per quello che è, sarà perché mi piacciono i film che i protagonisti sono gli squali, perciò questo film l'ho adorato. Poi, altro film, George Clooney, Mark Welber, La Tempesta Perfetta. Vi ricordo che questo film ha preso spunto da una storia vera, l'Andrea Gayle. Proseguiamo, altro grand film, ragazzi. Io penso che nei film basati sullo sport, il discorso che interpreta il coach, interpretato da un fantastico Al Pacino in ogni maledetta domenica, sia il discorso più bello che si possa fare in un film sportivo. Il film è lo spogliatoio, vi lo ricordate? Passo dopo passo, dovete guadagnare ogni centimetro. Ragazzi, è fantastico, fantastico. Anche qua, vedete? Come si apre? Bellissimo film, gran film, veramente. Questo, un film drammatico, un grand cast, Kevin Spacey, Elenante, e poi il ragazzino che ha interpretato anche Il Sesto Senso. Un sogno per domani. Ragazzi, un bellissimo film, una commedia a sfondo drammatico, ma veramente bella. Ve la consiglio appieno, se non l'avete mai vista. Poi, a parte che vi spesi, che adoro, ma anche Elenante ha una bella parte e anche lei mi piace molto come attrice. Allora, ragazzi, questi erano tutti i DVD snapper. Poi passiamo all'altro genere di DVD. I cosiddetti DVD si chiamavano Jewel Box, che, se voi traducete, sta per portagioie, perché in effetti il DVD per noi è una grossa gioia. Ed erano fatti come? Se li erano in cartone e con l'apertura in plastica nera, questi sono tutti in una plastica trasparente. Molto belle anche queste, anche queste le adorate. In questo caso, questo è il primo film, Indovina chi viene a cena, con Sidney Poitier e Spencer Tracy. Ecco, vi ricordate quando avevo detto Buzz Spencer ha preso spunto da... Ecco, lui è Spencer Tracy. Qui le edizioni erano... Anche qua c'era il foglietto, invece, che dava tutte le scene del menù, diciamo, del film. A questa, ecco, per dire di questo film, l'edizione è anche in Blu-ray, perché lo merita. Poi, andiamo avanti, non perdiamo tempo, grandissimo film con un grandissimo cast di livello, Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore. E anche qua, per quanto mi riguarda, penso che è un film dove ci sia il processo più bello nell'ambito militare. Sto parlando di Codice d'Onore. Grandissimo film, ripeto, il grandissimo cast. Andiamo avanti, acceleriamo un po', ragazzi, perché se no... Alta interpretazione magnifica di Al Pacino, film di Martin Brest, Shinto of Home, Profumo di Donna. Al Pacino è veramente superlativo, interpreta questo ex militare cieco, ma fantastico. Veramente fantastico. Altro bel film dello stesso regista di Shinto of Women, vi presento Joe Black. Ragazzi, anche qua Brad Pitt, Anthony Hopkins, grand cast, grand film. E quando ti capita di conoscere il diavolo in persona, che ci puoi fare anche quattro chiacchiere. E, insomma, prima di prenderti puoi passare un po' di tempo con lui. Bellissimo. Andiamo avanti con un film che prendetelo per quello che è, Anaconda. Anaconda. Comunque, in Anaconda c'è un bel cast, perché c'è Jennifer Lopez e John Boyd, che vi ricordo che è il papà di Angelina Jolie. Andiamo avanti. Godzilla. Seguiamo. 8 mm di litro luci rosse. Con Nicolas Cage. Un bel dramma thriller. Andiamo avanti con un film di Luc Besson e per una volta Mila Jovic sveste i panni della saga di Resident Evil. E, invece, indossa quelli di Giovanna D'Arco. Seguiamo. Allora, questo film, molti hanno giudicato un'eresia che il regista abbia fatto un remake su un capolavoro del cinema assoluto. Ma lui ha detto che è solamente un omaggio al regista. Il film di cui sto parlando è Psycho e l'omaggio è ad Alfred Hitchcock. Psycho. E, naturalmente, il regista Gus Vassant, che lui quando fa ogni volta che fa un film succede il finimondo. è preso pari pari al film di Hitchcock. Beh, quello è un capolavoro. Questo è, secondo me, io, in questo caso, adoro i... Ah, scusate, che voglio ogni tanto per mettere a fuoco. Dicevo, io adoro Hitchcock e in questo caso però do ragione al regista. Non la considero un'eresia, ma per me è un omaggio che il regista vuol fare a Sir Alfred. Andiamo avanti. L'uomo senza ombra. Elizabeth Shue e Kevin Bacon. Bel film, ragazzi. Bellissimi effetti speciali, tra l'altro. Poi, chi non vedeva la serie, ragazzi? Le Charlie's Angels. Questo è il film. Andiamo avanti con l'ultima. G-Wall Box. E sto parlando anche qua di un grandissimo Jack Nicholson e Adam Sandler. Terapia d'urto. Una bellissima commedia per farvi due risate. E ve lo consiglio. Poi, per l'edizione DVD, è riuscita una serie super biked. Suono migliorato, immagine migliorata. Lì ho preso due film. Ho preso Il Patriota, con Mel Gibson. Ve lo consiglio perché il cattivo di questo film qua è niente po' di meno il papà di... È praticamente Lucius Malfoy. Il, diciamo... Il Harry Potter, quello che fa il cattivo dei serpeverde. Poi, altro film con un grande Elze Washington e Angelina, un grandissimo thriller. Il collezionista di ossa. Di questo film ho anche il Blu-ray. Il film praticamente di Superbite era viola il disco. Alta qualità, immagine migliorata, suono migliorato. Adesso siamo al 4K. Poi, andiamo avanti con... Aspetta che recupero gli altri. Aspettatemi qui. Eccomi ragazzi. Vedete che tutti questi film qua sono quelli del primo scaffale del mobile. Immaginate quanti ne ho e poi un altro mobile e quanti video possiamo fare. Perciò questa è solo la prima parte. Niente, accelero altre DVD in steelbook. Invece che essere steelbook Blu-ray, steelbook DVD, grandissimo film, preso spunto, dicono, da una storia vera. Papillon, che adesso è uscito in remake da poco al cinema. Con un grandissimo Dustin Hoffman e il grandissimo Sim McQueen. Papillon. Ve lo consiglio. Poi, proseguiamo. Altra steelbook. Le quattro piume. Hit Ledger, ragazzi. Poi, sempre un'altra steelbook. Vincitore solamente di sei premi Oscar. La regista è Catherine Bigelow. The Art Looker. Che una volta le facevano anche belle le stream per i DVD. Anche qui, vedete, gli Oscar sono totalmente anche la scritta qua sotto. The Art Looker. E gli Oscar sono in rilievo. Cioè. Poi, altri due steelbook per due film fantastici, ragazzi. Non ci sono parole. Bellissimi film. E chi non li ha visti, ragazzi. Sto parlando di Ufficiale Gentiluomo. Con un giovanissimo Richard Gere. E nella parte del comandante Lou Grosset Jr. Fantastico. Poi, altro film stravisto, rivisto. Eh, ragazzi. Demi Moore, Patrick Swayze. Il compianto Patrick Swayze. Sto parlando di Ghost. E chi non l'ha visto, ragazzi. Fantasma. Proseguiamo. Questi sono DVD semplici. Però di una saga. Red Dragon. Di tutti questi qua. Ho anche Blu-ray, logicamente. Ma ho ottenuto queste edizioni perché sono fantastiche. Il silenzio degli innocenti. E voi, ragazzi. Qua, non so se si vede. Qua dentro c'è un bel messaggio. È qui a metà, ragazzi. Non si vede. Però vi consiglio. Questa qui, la farfalla che ha sulla bocca. C'è un bel messaggio subliminale. Voi potete andare a cercare. Che cosa vedete? Che cosa vedete sul dorso della farfalla, eh? Attenzione, non è quello che si vede è quello che il cervello ti vuole far vedere. Ma non è così. Cercatelo. Poi andiamo avanti con Hannibal. E vi ricordo che in questo film qua, come dicevo, collegandomi al film, al video sui DVD Blu-ray italiani, Giancarlo Giannini c'è anche in questo film qua, eh? che recita con Anthony Hopkins, ambientato a Firenze anche. E poi Hannibal Lecter, Le origini del male, l'ultimo capitolo della saga. Poi andiamo avanti con l'ultimo DVD, penso. Sì, dovrebbe essere l'ultimo DVD, film storico, ragazzi, edizione inglese, Il mago di Oz. Edizione inglese, colla di un italiano. Anche qua scritto in rilievo, bellissima edizione. E contiene libricini, cartoline, chi più ne ha più ne mette. Questa edizione la potete trovare, guardate, ancora si trova, ma penso sui 20 euro. Un'edizione fantastica però, ragazzi, per un grandissimo film. Poi pensare che questo film era degli anni 39, esatto, perciò immaginate voi. Poi andiamo avanti, andiamo avanti con i miei film 3D. E collegandomi al mago di Oz, se quello era l'edizione inglese, colla di un italiano, questo è il Blu-ray, in questo caso parliamo solo di Blu-ray, slipcase, mago di Oz, 3D, edizione francese, colla di un italiano. Vedete, in questo caso le ho tutte e due, perché, cioè, secondo me meritano tutte e due. Poi, andiamo avanti, sempre con edizioni 3D, la maschera di cena, ragazzi. Pensare che questo film è del 53, ha un effetto 3D bellissimo, con uno straordinario Vincent Price. Chi non l'avesse visto, ve lo consiglio appieno. Andiamo avanti, il cacciatore di vampiri. Questi qua che vi faccio vedere sono tutti film 3D, che naturalmente contengono anche il 2D, però, chi non l'avesse il 3D. Capitan Arlok. Gravity. Edizione Sleepcase. Bel film, a me è piaciuto. Poi, Jumper. Con la copertina lenticolare. Poi, altra copertina lenticolare per un gran film, Predator. Proseguiamo. Bellissimo film, ragazzi. veramente bellissimo, anche in questo caso, copertina lenticolare. Vita di P. Poi, andiamo avanti, gli ultimi quattro film 3D. Abbiamo Everest, che ha preso spunto da una storia vera. Ve lo consiglio, veramente, per vedere i fatti come sono successi da questa storia vera. Perciò, molto bella con Josh Brolin. San Andreas, il cacciatore gigante, e viaggio nell'isola misteriosa. E questi erano 3D. Poi, andiamo avanti con altri Blu-ray. Edizione 70esimo anniversario, Casa Blanca. Ragazzi, cosa dire di questo film qua? Con Henry Bogart, Ingrid Bergman. Cioè, fantastico. Film bianco e nero, ma meraviglioso. libricino, interno, che praticamente svela tutti i fatti, foto di scena, fatti dell'epoca, location, molto bello, ragazzi, un film meraviglioso. Fa parte, veramente, della storia del cinema. Andiamo avanti con una giovanissima Elizabeth Taylor. Sto parlando di Cleopatra. Edizione 50esimo anniversario. Questo film, ragazzi, non lo so, è uno dei più lunghi che io abbia mai visto. Perché dura esattamente 250 minuti. Cioè, 4 ore e 10 di film, ragazzi. Elizabeth Taylor. Bellissima, stupenda e bravissima che interpreta, appunto, Cleopatra. Andiamo avanti, ragazzi, con edizione per la Master of the Collection. Un grandissimo film, anche questo, I Dieci Comandamenti. Questa è uscita una catena di questa Master of the Collection. Non so se erano tipo una ventina di film, io ne ho presi solamente tre, perché altri le avevo in altre edizioni e non mi interessavano. I Dieci Comandamenti, però sono fatti molto bene. Doppio disco. Edizione, vedete, Digibook che contiene tutto del foto di scena, personaggi, cast, molto bello. Sempre su questa linea qua ho preso un altro grandissimo film, Viale del Tramonto. Uguale anche qua. Libriccino. film storico, mitico, Audrey Hepburn e George Pepper che vi ricordo che era il protagonista delle team, scusate se poco, Colazione da Tiffany. Cioè, ragazzi, George Pepper e Audrey Hepburn. Fantastico film, ragazzi. Colazione da Tiffany. E chi è andato a New York, chi non è passato davanti a Tiffany e ha pensato al film. Andiamo avanti. Altro film mitico, ragazzi. Chi non si ricordava il mitico Fischio. Poi i protagonisti, Ale Guinness e William Holden, Il ponte sul fiume quale, ragazzi. Vincitore di ben sette premi Oscar. Capolavoro assoluto, tra cui i miglior film del 57. Questa edizione italiana, tiratura limitata in mille copie. E questa, ragazzi, è una chicca perché ci sono cartoline di scena e poi l'album, però è interamente in italiano. Cioè tutte le scritte sono in italiano, perciò molto bella questa edizione. Il ponte sul fiume quale. Poi andiamo avanti. Altro grandissimo film, ragazzi. Cosa dire? Il libro Chi l'ha letto di Pasternak è molto pesante. Sto parlando del Dottor Zivago, però anche qui ha fatto la storia del cinema. Veramente. Omar Sharif, Lara, cioè stupendo, ragazzi. Questa è un'edizione americana con l'audio in italiano e contiene anche qua, vedete, foto di scena, cast in inglese, però. Poi proseguiamo con un musical, la piccola bottega degli orrori. Fantastico, ragazzi. Bellissimo musical. E anche qui edizione Digibook in inglese con il... Questa è l'edizione però italiana, eh. Vedete? Questa è italiana. Un musical di Venuto Calta. Bellissimo, ragazzi. una piccola bottega degli orrori. Proseguiamo. Come dicevo prima non mi piacciono i musical, ma questo l'avevo nominato perché è uno fra quelli che mi ha sbalordito alla grande ultimamente. Sto parlando dei miserabili, ragazzi. Un'edizione, questa è edizione limitata, edizione da collezione presa su Amazon con praticamente vedete, libricino film bellissimo con un grandissimo Russell Crowe, Hugh Jackman e Hannah Hathaway fantastica. E poi c'è Elena Bonham Carter che è, ricordiamo, la moglie di Tim Burton. Veramente bello, ragazzi. vincitore di tre Golden Globe e tre premi Oscar e quattro premi BAFTA. Perciò, ragazzi, cosa dire? Infatti Hannah Hathaway che fa una prova veramente bravissima, struggente, tutto ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Ve lo consiglio, i miserabili. Poi proseguiamo con un altro film mitico che fa parte della storia del cinema, Il buio oltre la siepe con Gregory Peck. Poi questo film mitico anche questo, ragazzi, che dire? Paul Newman, Robert Redford, La Stangata. Cioè, un film fantastico. Veramente da vedere. Eccezionale. Proseguiamo, ragazzi, che abbiamo quasi finito? Forse, ce la facciamo. Cofanetto edizione limitata da collezione e grandissimo regista Stanley Kubrick. questo cofanetto contiene nove film Spartacus, Lolita, Il dottor stranamore, 2001 di sé nello spazio, Arancia meccanica, Barry Lyndon, Shining, Full Meta Jacket, Highsway Shot. E al suo interno contiene anche un libricino praticamente diviso per film con immagini di scena e aneddoti in inglese. però questa è l'edizione italiana. Collegandomi sempre a Kubrick ho preso anche l'edizione per il 25esimo anniversario di Full Metal Jack. Fantastico. Praticamente il film e in mezzo e in mezzo il libricino ragazzi. Che film è? Palla di lardo Vincent Donofrio bellissima edizione. Proseguiamo con un film meraviglioso e campione di incassi in tutto il mondo Avatar. bellissimo qua c'è poco da dire stupendo ragazzi. Adesso vanno di moda gli avatar. Adesso da un po' di tempo vanno di moda gli avatar e appunto quando è uscito il film stupendo. Poi andiamo avanti sto parlando di un grande regista italiano Sergio Leone questa è la collector per un pugno di dollari praticamente contiene il libro in italiano con tutte le location aneddoti curiosità potte cena bellissimo e collegandoli sempre a Sergio Leone il cofanetto limit edition c'era una volta Sergio Leone bellissima la frase che c'è dietro il cinema deve essere spettacolo è questo che il pubblico vuole e per me lo spettacolo più bello è quello del mito il cinema è mito Sergio Leone grandissimo questo questo cofanetto contiene una card presa che praticamente ti metto la card di un film in questo caso mi è uscita la card del film per un pugno di dollari e poi contiene i film c'era una volta in America l'extended edition giù la testa c'era una volta il west il buono il brutto il cattivo per qualche dollario in più per un pugno di dollari e il colosso di rodi è diviso così vedete molto bella questa edizione per un grande regista poi andiamo avanti ragazzi scusate se il video è lungo ma siamo solo al primo ho detto primo reparto allora andiamo avanti con facciamo gli ultimi tre e poi ci aggiorniamo con il video successivo allora film che avevo già recensito scusate se sono uscito dall'inquadratura un film di un regista anche in questo caso è un po' visionario sto parlando di Darren Aronofsky ha fatto questo film mi è piaciuto un sacco il cigno nero questa è l'edizione italiana Natalie Portman e questa che avevo già fatto vedere è l'edizione tedesca con l'audio italiano e potete vedere qua il cigno bianco ve lo avvicino vedete il cigno bianco e il cigno nero copertina lenticolare allora il film ragazzi secondo me è bellissimo è un thriller psicologico veramente bello Natalie Portman eccezionale tanto che premio Oscar per questo film perciò ragazzi ve lo consiglio appieno e lo stesso regista ha fatto anche il film The Wrestler quello con Mickey Rourke ambientato appunto nel mondo del wrestling grande regista grandissimo film poi ragazzi chiudiamo con un film del 39 un'edizione stupenda per il 70esimo anniversario via col vento questa è un'edizione americana con l'audio in italiano edizione bellissima in tessuto ragazzi questo è questo è tessuto rosso con la scritta leggermente rilievo e guardate cofanetto edizione limitata a 150.000 copie in tutto il mondo si apre così vedete Rossella O'Hara dentro c'è il libro e altri oggetti di scena cartoline c'è anche mi sembra la stampa della prima quando hanno effettuato la la premiere la prima volta al cinema del film perciò veramente un'edizione stupenda vedete dietro è tutto rosso in velluto bene ragazzi scusate è stato un po' lungo ma questi i film sono veramente tanti questa è la prima parte ci aggiorniamo presto con le altre parti perciò continuate a seguirmi che qua c'è tanto da vedere e da commentare io vi ringrazio se vi è piaciuto il video mettete un mi piace ringrazio i vecchi iscritti i nuovi iscritti e chi non l'avesse fatto potete scrivervi vi ringrazio molto grazie ragazzi buona giornata presto grazie a tutti grazie a tutti